Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra recensione dell'HP Omen nella versione da 15 pollici. Parliamo quindi di un notebook con un display da 15 pollici pensato appositamente per il gaming. Quindi troviamo al suo interno un processore Intel Core i7 e una stile grafica Nvidia GeForce GTX. Scopriamolo nel dettaglio dopo la nostra sigla. Presenta un display da 15.6 pollici di diagonale, risoluzione full HD con risoluzione 1920x1080 pixel e un refresh rate da 144 Hz. Tastiera completa di lettere con tastierino alfonumerico sulla parte destra, quattro zone personalizzabili retroilluminate e tastierino accensione e spegnimento, anch'esso retroilluminato di colorazione rosso che richiama naturalmente la scritta Omen e il simbolo posti sulla parte anteriore del nostro terminale. Sistema alto premante audio Bang Olufsen e tastierino trackpad con multitouch, tasto sinistro e tasto destro. La parte superiore invece è composta da un materiale plastica che sembra fibra di carbonio con richiami colorazione rossa e naturalmente il solito simbolo Omen. Girando sulla parte sinistra noi troviamo slot per la SD, presa per il microfono, presa per le cuffie e cuffia con microfono, presa USB 3.1 di terza generazione. Posteriormente invece troviamo una Thunderbolt, una mini displayport, una HDMI, una presa USB 3.1 e naturalmente una presa Ethernet. Mentre sulla parte destra abbiamo un'altra presa USB, il jack per collegare la presa di ricarica e il piccolo LED che ci permette di capire quando il terminale sta lavorando. Parte inferiore, anch'essa molto caratteristica, ricorda molto il notebook MSI, con due ventole per raffreddamento e al centro anch'esso il simbolo Omen con la scritta E. Importanti i piedini che permettono di mantenerlo leggermente sollevato rispetto a terra, in quanto comunque necessita di molta aerazione. Il notebook presenta un processore Intel Core i7 di ottava generazione, modello 8750H con frequenza di clock fissata a 2.2 GHz. Grazie al cosiddetto Omen Center, raggiungibile anche con la pressione di questo pulsante, si ha la possibilità di overclockarlo, ovvero comunque di raggiungere prestazioni elevate, allocando quindi e richiedendo un maggiore sforzo al nostro processore. Questo però cosa comporta? Comporta che la CPU si scalda di più, può raggiungere addirittura temperature, per dire adesso è a 57 gradi, ma può raggiungere temperature anche di 90 gradi, in condizioni di stress particolarmente elevato. Questo, come vedete, è l'Omen Command Center. Noi, ad esempio, potremmo fare il booster di rete per far sì che il nostro sistema dia più priorità a determinate applicazioni, tra quelle attualmente attive. L'illuminazione, in quanto la tastiera è retroilluminata, come vedete, in quattro sezioni, si possono cambiare le colorazioni, impostarle a piacimento. Abbiamo notato solo un piccolo baguettino sulla parte destra, infatti vedete che anche cambiando non cambia colorazione, resta sempre blu. Questo non sappiamo se è un problema legato al nostro software, perché questo comunque è il terminale che ci è stato dato in prova. Però, per il resto, se cambiamo colorazione dalle altre parti, vedete che cambia tutto e può essere impostato a piacimento. In controllo prestazioni troviamo quello che stavamo dicendo. Quindi, situazione comfort, riduce temperatura di CPU e GPU, in modo tale che anche le ventole non facciano troppo rumore. Predefiniva, si adatta in base al vostro utilizzo. Invece, in altre prestazioni, raggiunge addirittura 90 radii, ma vi assicuro che non vi darà alcun problema né con l'editing fotografico, video, né con qualsiasi tipo di gaming. Proprio parlando di gaming, vediamo ad esempio come gira Fortnite. Noi abbiamo installato e scaricato l'applicazione e vi facciamo vedere. Come vedete, il nostro, considerato che siamo connessi con una fibra a 200 MB, vedete che funziona perfettamente, non presenta lag particolari. Noi, ad esempio, se mettiamo impostazioni, noi mettiamo, vedete qua in alto, 240 FPS. Potremmo mettere anche illimitati. Però se noi mettiamo qualità, epico e torniamo, salviamo, e torniamo nella modalità, vedete che non lagga, funziona perfettamente e il nostro Fortnite può essere avviato senza particolari problemi. Provando, invece, un altro gioco, richiamiamo il classico Asphalt 9 Legends. Anche in questo caso vedremo che la qualità, sia del refresh rate di 144 Hz, che la qualità del nostro ampissimo display, ci permette di raggiungere prestazioni elevate. L'unico appunto che possiamo fare di questo notebook è la rumorosità, in quanto le ventole, pur per cercare di raffreddare il più rapidamente possibile una CPU che raggiunge i 90 radi, devono lavorare a tal punto che forse sono leggermente un po' rumorose e il terminale scalda moltissimo. Quindi il nostro consiglio è di utilizzare un sistema di raffreddamento o comunque di mantenerlo in posizione sopraelevata rispetto al piano d'appoggio. Intanto che ci siamo vi faccio anche sentire l'audio e, devo dire, essere rimasto particolarmente piacevolmente colpito dalla qualità. Questo invece ha un 50% di volume. Vedete che innanzitutto non lagga, funziona benissimo e dobbiamo davvero tenerti soddisfatti della qualità raggiunta da HP. Altri aspetti da sottolineare è la presenza sostanziale di un doppio hard disk interno. Lo possiamo ad esempio vedere da qui, ad esempio in questo pc, noi vediamo un hard disk SATA da 1TB e un 256GB, un M.2 SSD webcam sulla parte anteriore. Troviamo un preinstallato Windows 10 Home con la possibilità anche di avere un mese di prova gratuito di Office 365. L'altro aspetto da tenere in considerazione è la durata della batteria. La batteria in un utilizzo normale, ad esempio sono già 10 giorni che lo utilizziamo giornalmente, dura quelle 3 ore. È una batteria da 70Wh in ioni di litio a 4 celle, 2 ore circa per attività di gaming o di editing fotografico. Parlando proprio di editing, vi faccio vedere quanto velocemente apre Adobe Premiere Pro 2019. Aprendo un nuovo progetto, vediamo che l'importazione anche di un video molto lungo può richiedere veramente poco tempo. Vediamo ad esempio uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato sul nostro canale, prendiamo quello del Sony Xperia 10 Plus che vi invitiamo a guardare. Avete visto che l'importazione è rapidissima e anche l'inserimento è rapidissimo e provando a navigare vedete che comunque si è un po' lentino, però si può spostarsi senza particolari problemi e lui non l'acca, rallenta un po' in alcune occasioni, però è perfetto. Proviamo infine l'audio e vi facciamo vedere la qualità del video. Giungiamo quindi alle conclusioni. Cosa possiamo dire di questo notebook? Indubbiamente è un notebook veramente potente, si può utilizzare per l'editing, si può utilizzare per il gaming, si può utilizzare per qualsiasi applicazione o operazione si voglia fare. Gli aspetti positivi sono davvero tantissimi. Troviamo un display veramente di alta risoluzione, una tastiera ergonomica retroilluminata, un touchpad che permette il multitouch molto reattivo, un processore che di meglio al momento non ce n'è, parliamo di un Intel Core i7 di ottava generazione e una scheda grafica che difficilmente tentenna, come abbiamo visto anche nell'editing di video in 4K 50p. Gli aspetti negativi sono veramente pochissimi, parliamo forse di un'ergonomia non eccessa in quanto il terminale è troppo spesso, quindi il polso può far male se lo si utilizza tanto. E allo stesso tempo parliamo di un peso superiore alla media, sono 2 kg abbondanti di dispositivo, quindi non è proprio un portatile come e quanto vorremmo sperare. Per il resto abbiamo l'ultimo problema che è legato alla dissipazione del calore. Abbiamo quindi una ventola che è dato un processore molto potente e una scheda grafica altrettanto potente, una ventola che deve lavorare tantissimo per riuscire a dissipare quel calore che infatti in situazioni estreme come può essere il gaming o come può essere l'editing fotografico, arriva a livelli altissimi. Quindi dovete tenere conto che se acquisterete questo terminale dovrete anche pensare a un sistema di raffreddamento o comunque un sistema che permetta di sollevare il notebook rispetto alla postazione di lavoro. Per il resto il prezzo è forse un po' tantino elevato, parliamo di oltre circa 1500 euro, però possiamo davvero consigliarlo per la sua qualità costruttiva e per la qualità generale. Se il nostro video vi è piaciuto vi invitiamo a mettere un like qui sotto e naturalmente di iscrivervi al nostro canale in quanto nei prossimi giorni pubblicheremo tante nuove recensioni.